Giovanni Legnini è il nuovo commissario straordinario per la ricostruzione post sisma del centro Italia. La nomina da parte del presidente del consiglio Giuseppe Conte è arrivata nel tardo pomeriggio di ieri, giorno in cui scadeva la proroga del precedente commissario Piero Farabolini. È giorno in cui dall'Abruzzo si era elevato un coro unanime di preoccupazione per il ritardo con cui il governo stava procedendo all'individuazione del successore, con il rischio di un vero e proprio stallo nella governance della ricostruzione. È dunque l'abruzzese Giovanni Legnini a prendere in mano il delicatissimo fronte che rappresenta tuttora, a quasi quattro anni dalle prime scosse distruttive del 2016, lo snodo principale dello sviluppo futuro di aree importanti che uniscono quattro regioni italiane. L'ex vicepresidente del CSM lascerà lo scranno in consiglio regionale conquistato alle elezioni dello scorso anno da candidato presidente del centrosinistra, sconfitto da Marco Marsilio. Sono consapevole della grande rilevanza della sfida che mi attende e della complessità dei problemi da affrontare, ha dichiarato Legnini subito dopo la nomina, con l'urgenza e la risolutezza che i cittadini e i sindaci da tempo richiedono alle istituzioni. Spenderò tutte le mie energie per far sì che la ricostruzione del centro Italia assuma la velocità necessaria per consentire alle comunità di risollevarsi. Tra i primi ad augurare buon lavoro a Legnini è stato proprio il governatore della regione Abruzzo Marsilio. La scelta di nominare un quarto commissario in meno di quattro anni è indicativa delle difficoltà con le quali è stata affrontata la ricostruzione nel cratere dell'Italia centrale, ha dichiarato Marsilio. Non vorrei che la mancata conferma dell'incarico a Piero Farabollini suonasse solo come una bocciatura della persona, nascondendo sotto il tappeto la polvere dell'incapacità dei governi e dei parlamenti che si sono succeduti ad offrire risposte concrete ed efficaci ai territori colpiti dal sisma, tuttora impantanati in una infernale macchina burocratico-amministrativa. Per la regione Abruzzo, ha aggiunto il presidente Marsilio, confrontarsi con un commissario del proprio territorio può rappresentare un'opportunità di maggiore ascolto e sensibilità per affrontare il tema delicatissimo del riequilibrio dei pesi della ricostruzione, che vedono da tre anni l'Abruzzo penalizzato da una quota del 10% largamente inferiore ai dati e ai fabbisogni reali.